Vorrei che in ogni conquista dell'uomo ci fosse da qualche parte il mio nome, vorrei essere stata quel giorno sulla luna, voglio provarci da sola, voglio altre lune da conquistare e non permetterò a nessuno di farlo al posto mio, perché ho energie e voglia di sognare, si chiama ricchezza mentale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.